Salve, oggi faremo un altro unboxing, questa volta del TS219P2, esempio della QNAP. Questo è un NAS a due porte, per due harddisk, più esterni. Allora, qui abbiamo, come nel modello minore, a una porta, c'è sempre il scatolotto con gli accessori, viti, alimentatore, il cavo di rete, disco driver e guida rapida. Poi, dentro la scatola, c'è il cavo di alimentazione e qui abbiamo il NAS, sempre ben imballato. E' sempre con lo scotch posizionato in maniera assurda. Allora, qui abbiamo due porte esata. Il modello TS219P2 ne aveva una sola, la porta di rete, due porte USB e l'alimentatore. Davanti ci sono i due slot, sono uguali al 119, sempre fatti in plastica. E' LED, tasto accensione, tasto copia, porto queste bifrontale. E questo è tutto. Allora, qui abbiamo���ato. Grazie.